Il sonetto 74, come molti altri, i sonetti shakespeariani, è un dono che ha il compito, se non il dovere, di contentare, di rassicurare chi lo riceve. In questo sonetto Shakespeare parla di morte, ma ne parla come un qualcosa che non deve preoccupare, non deve rattristare, perché secondo lui è soltanto la morte del corpo, che in questo sonetto viene descritto come la feccia della vita, vittima del tempo, il sicario. A questa morte Shakespeare contrappone l'immortalità dello spirito, che è l'unico pregio, la miglior parte del corpo, e questo spirito vivrà per sempre. E come? Appunto grazie a questo sonetto, perché una volta, ogni volta che i versi verranno letti, il ricordo del poeta rimarrà vivo. Quindi questo sonetto non solo parla di morte, ma ancora meglio la sconfigge. Ma sta contento, pur se il ferro arresto senza riscatti mi trascinerà tuttavia, in questi versi, un pegno, la mia vita serba, che a mia memoria, teco sempre, si rimanga. Allorché tu li scorra, sotto agli occhi, di me, quella parte tua avrai che ti fu consacrata. terra, terra, non può avere che terra, cosa che a lei spetta, ma tuo sarà lo spirito, di me, la miglior parte. Sì che tu avrai perduto solo le fecce della vita, preda dei vermi, se il mio corpo sia morto. Tristo trionfo del ferro di un sicario, troppo vilcosa perché da te sia rimembrato. Solo suo pregio è quel che esso contiene, e questo è qui. E teco si rimane. Grazie a tutti.